Qualcuno vuole registrare al posto mio oggi? No, non è vero, forse no. Salutate Bart, guardatelo. Lui è molto bello. Bart saluta in camera. Oggi si è messo nella sedia qua quando ho preparato l'ambientazione e voleva registrare al posto mio. Ho ho ho, ma benvenuti in questo speciale di Natale. Vi piace l'ambientazione? Si tratta del mio salotto con il mio presepe e il mio albero. Tutto merito dei miei genitori che sono grandissimi appassionati del Natale. In questo periodo dell'anno la mia casa sembra più incasinata del Polo Nord. Nel senso positivo, dato che ci sono tantissime cose che rimandano a Natale, come potete vedere dalle poche informazioni che avete da schermo. Come è andato l'anno, ragazzi? Avete fatto i bravi? Babbo Natale vi porterà i vostri doni? Alcuni di voi sì, magari altri di voi no, ma sono sicuro che Babbo Natale sarà clemente e vi porterà tanti bei regali che vi faranno piacere, vi faranno felici. Detto questo, magari alcuni di voi hanno ancora bisogno di qualche consiglio su qualche regalo di Natale per un vostro parente oppure per un vostro amico. Ma non temete, ci sono qua io in questo speciale natalizio e infatti vi andrò a dire 5 di regalo fantastiche che potranno andare a soddisfare anche il nerd più difficile da accontentare. Ma prima di far ciò, godetevi questo paesaggio, ma prima ancora, la sigla. Video che secondo me non verrà nemmeno tanto lungo, infatti vi dirò i 5 regali possibili con le loro caratteristiche in modo abbastanza descrittivo e veloce, in modo tale che possiate scegliere quello da regalare a un vostro amico o a chi altro. Primo regalo, i Crash Bandicoot Files. Questo libro per i fan di Crash Bandicoot è davvero una grandissima chicca, infatti contiene tantissime illustrazioni, tantissime artwork e addirittura lo script originale del primo Crash Bandicoot riportati appunto in questo libro. Per chi non lo sapesse, infatti, il primo Crash Bandicoot aveva uno script molto più complicato che è stato tagliato a causa della scarsa potenza dell'hardware di PS1, ma sono convinto che in futuro magari questo script originale possa essere usato per un nuovo gioco, magari per i Crash Bandicoot Wars che dovrebbe uscire nel corso del 2020, che non è ancora stato annunciato ma è liccato in giro per la rete. Comunque per un fan di Crash Bandicoot questo è sicuramente una chicca, un libro che costa intorno ai 25€ e che vale la pena di possedere, soprattutto appunto se siete fan di Crash Bandicoot. Secondo regalo, il cofanetto manga di Pokémon. Allora, ne esce uno circa ogni anno intorno a novembre, sono usciti 4 cofanetti al prezzo di 29,90€ l'uno. Il primo contiene rosso e blu e giallo, il secondo oro, argento e cristallo e così via. Per ora sono usciti 4 cofanetti che potete trovare su Amazon, ovviamente se dovete regalare il primo vi consiglio ovviamente rosso e blu perché incomincia la storia, anche perché tutte le storie sono collegate tra di loro e di conseguenza regalare magari il terzo cofanetto su 4 non avrebbe molto senso a una persona che non conosce i primi due. Detto questo, il cofanetto di Pokémon è assolutamente fantastico, io ne ho due e devo recuperare gli altri due, ma posso dirvi che hanno una storia fantastica e sono davvero divertenti da leggere. Terzo regalo, il cofanetto blu-ray dei film di One Piece. Contiene tutti i film di One Piece usciti fino ad ora, tranne stampite per ovvi motivi, dato che c'è stato il cinema un paio di mesi fa e deve ancora uscire la versione blu-ray, costa intorno ai 49€ in questi giorni su Amazon dato che è in sconto. Esiste sia in versione blu-ray sia in versione DVD, di conseguenza se non avete la possibilità di avere un lettore blu-ray o comunque una Playstation 4, può andare benissimo anche sul PC. In conseguenza se siete fan di One Piece e se i film di One Piece vi sono sempre piaciuti, quindi questo è un ottimo regalo, sia da fare agli amici sia da fare a voi stessi ovviamente. Quarto regalo, qui arriviamo agli amanti di Yu-Gi-Oh! come lo sono io. Infatti esiste una collezione di Yu-Gi-Oh! chiamata Yu-Gi-Oh! i deck leggendari di Yu-Gi, che contiene appunto tre mazzi appartenenti a Yu-Gi-Muto, ognuno per ogni generazione diciamo, che poi generazione non è corretto dirlo, ma sono tre mazzi che lui usa nel corso della sua storia. Infatti il primo contrarà le sue carte più classiche, come per esempio Mago Nero, Guardiano Celtico e Alfomistico. Il secondo avrà un upgrade con i guerrieri alfa, beta, gamma e il cavalieri del gioco della regina, mentre il terzo è forse uno degli ultimi deck di Yu-Gi con i Maghi del Caos e moltissime altre carte fighissime. Prezzo è intorno ai 46€, lo trovate su Amazon ed è un'idea secondo me davvero fantastica per gli amanti di Yu-Gi-Oh! Se volete fare un regalo a un fan appunto del brand di carte collezionabili da gioco, secondo me è questo uno dei regali più azzeccati che potete fargli. Quinta e ultima idea regalo, questa la devono regalare anche a me a Natale, i miei zii, quindi sono davvero contento di poterla annunciare, questa è davvero un'idea regalo per quanto mi riguarda, è la lampada PlayStation. È una lampada che presenta sulla sua superficie tutti i quattro i simboli del joypad, ovvero il triangolo, la croce, il cerchio e il quadrato. Ed è una lampada che se collegata alla presa della corrente oppure a pile, perché ora non mi ricordo, fa una luce abbastanza intensa che può illuminare la vostra stanza. Vi faccio un esempio su come possa essere usata. A me la sera piace giocare al buio, di conseguenza spengo la luce, ma senza fonti di luce esterne, oltre che quella dello schermo, i miei occhi vanno in frantumi. Di conseguenza ho deciso di prendere questa lampada, che ho letto su internet faccia abbastanza luce, ma notare da illuminarmi la stanza con questa lampada che fa effetto neon di vari colori. Può essere una buonissima regalo per una persona amante del brand PlayStation, ma sono sicuro che esista anche la versione Xbox. Prezzo intorno ai 26-27 euro, quindi è un regalo anche abbastanza prezzo budget che possa far felice un appassionato appunto del brand PlayStation. Questa era l'ultima idea regalo per il video di oggi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi possibili regali, fatemi sapere nei commenti se ne comprarete magari qualcuno anche in futuro, non per forza per Natale. Detto questo il video si conclude qui, io spero vi sia piaciuto, invito a mettere un bel mi piace, iscrivetevi al canale e condividete i video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre che in descrizione potete trovare il link per i miei social, Instagram e Facebook, passate numerosi perché pubblico numerosissimi aggiornamenti per quanto riguarda il canale. Ultima ma non ultima cosa, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità di Maltality. Fate i bravi perché Natale alle porte e sono sicuro che Babbo Natale vi porterà i vostri doni. E noi ci vediamo domenica con un prossimo video. Bella ragazzi!